Grazie a tutti. Il scopo dell'iniziativa è raccogliere fondi per l'associazione Peter Pan che si occupa dell'assistenza ai bambini malati di tumore. È una gara di solidarietà nella solidarietà, questo è molto importante perché quest'anno grazie anche ai nostri sponsor abbiamo coperto le spese e quindi praticamente tutta la quota di iscrizione che tutti questi fantastici runner quest'anno hanno devoluto andrà totalmente alla Peter Pan. 29 chilometri di percorso da Rione Sant'Antonio all'ingresso di Merano fino a Piazza del Grano a Bolzano attraverso la pista ciclabile e la corsa arrivata alla terza edizione richiama sempre più partecipanti. È partita tre anni fa in otto, l'anno scorso eravamo circa una cinquantina, quest'anno siamo in 70 e poi l'ha venuta a fermare per problemi di sicurezza perché ricordo che è sempre una corsa amatoriale e quindi è una corsa che è organizzata tra di noi, però siamo in circa 70 quest'anno, una bella soddisfazione. Grazie.